Banco Mattecarte per pagare la sosta blu. È la novità annunciata da Asetholding per i parcheggi nella città di Fano, che ad oggi conta 14 aree e 610 stalli, di cui 30 dedicati alle persone con disabilità. Nel 2014 sono stati emessi 480.000 ticket e i proventi vengono reinvestiti sulla gestione, cioè sui due accertatori di sosta ma anche sulla manutenzione delle aree. La manutenzione che riguarda sia i parcometri, sia la segnaletica orizzontale e verticale, sia la riqualificazione anche dal punto di vista delle asfaltature. Investiremo anche su opere che riguardano in maniera più ampia la città. I parcheggi a pagamento, precisa la Presidente, sono solo il 15% rispetto agli stalli presenti in città. I restanti sono per la sosta libera ed ora con questa importante innovazione, oltre ai contanti, nei parcometri potranno essere utilizzati senza costi aggiuntivi, bancomat prepagate e carte di credito. Inoltre, con i circuiti di pagamento ad esclusione del FastPay, non è necessario digitare alcun codice. Una nuova modalità di pagamento, che presto potrà essere effettuata anche con cellulari e smartphone. Basta inserire la tessera con microchip all'interno della fessura. Ecco, adesso il display darà le indicazioni da seguire per poter effettuare l'operazione. Una volta scelto il tempo, basta semplicemente dare il consenso premendo il tasto verde, poi il ritiro del ticket. Scelta del tempo che può essere effettuata attraverso questi tre tasti che vediamo. Solamente il tasto azzurro. Il pagamento è stato accettato. Ritiro la carta. Ecco qua il ticket.